180 anni è la richiesta di condanna per quello che è stato definito il più grande disastro abruzzese della storia moderna. 18 imputati della Montedi sono accusati dell'avvelenamento delle acque di bussi. Nel corso del processo che si è tenuto ieri sono emersi dettagli ancora più preoccupanti. Il vaso di Pandora non conosce fine gli ambientalisti che per primi avevano lanciato l'allarme, ora commentano così le ultime indiscrezioni. Tra ieri e l'altro ieri la requisitore dei pubblici ministeri Mantini e Bellelli è stata veramente impressionante. da parte molto documentata con tantissimi documenti proiettati sullo schermo e hanno tirato fuori documenti dai quali appare abbastanza evidente che a livello di Montedison c'era uno scambio di informazioni e c'era la consapevolezza che l'acqua fosse inquinata, addirittura ci sono state delle mistificazioni e il pubblico ministero ha avanzato anche il terribile sospetto, sono parole sue della Mantini in quel momento, il terribile sospetto che anche le istituzioni fossero consapevoli di questa situazione, nessuno ha fatto nulla. C'è stato anche un vecchio episodio, l'ex consigliere comunale di Pescara, Giovanni Contratti, che fu un antesignano delle battaglie ambientaliste e si batte fortemente contro Montedison, ci sono lettere che testimoniano come la Montedison si sia rivolta alla regione per cercare di farlo tacere, di farlo mettere sotto silenzio. Tra le preoccupazioni, spiega Di Tizio, l'assenza di un esame epidemiologico che chiarisca le conseguenze di un avvelenamento protratto per decenni. Le parti civili saranno ascoltate i prossimi 10 e 17 ottobre. Il WWF fa sapere che tra le richieste che avanzeranno ci sarà certamente la conferma delle condanne annunciate, oltre ad un risarcimento simbolico ancora da fissare in una riunione che si terrà la prossima settimana. Sono due udienze, perché le parti civili sono tante, ma chiederemo il risarcimento del danno in linea di massima. Adesso bisognerà vedere le singole posizioni, perché i comuni, le associazioni, la vocatura dello Stato hanno tutte posizioni diverse. Ma in sostanza le parti civili sono chiamate a chiedere la conferma, immagino, di quello che hanno chiesto i pubblici ministeri, e più il risarcimento del danno, che è una parte importante, perché alla fin fine quello che davvero interessa ai cittadini è quello che abbiamo bevuto, vorremmo sapere che danno ci ha fatto, quindi vorremmo l'indagine epidemiologica. Ma per quanto riguarda il processo, l'obiettivo vero, l'obiettivo finale è la bonifica dei luoghi. La bonifica seria, fatta bene, è che riporti l'ambulso allo stato primordiale, cioè a una purezza che non abbiamo più da tanti anni.